Era caduto un ufficiale americano, un colonnello americano da un aereo, è stato un poligonchio lì. La mangiare ce n'era poco e per farlo stare male gliene davano anche meno degli altri. Allora lui ha detto col comandante, se riesco ad andare a Firenze ti faccio fare un lancio con gli aerei e ti mando giù ogni ben di Dio. Ed è stato sincero, è passato il fronte, è andato a Firenze, perché allora poi c'era la comunicazione da Ligonchio, dalla Magolese a Firenze, c'erano questi ufficiali inglesi con le radio. Era possibile proprio parlare come adesso col telefono. E ha fatto questo lancio, una domenica mattina sbuccavano degli aerei da tutte le parti e buttavano giù persino dei bidoni di benzina lunghissimi che sembravano dei missili così. Persino due, hanno buttato giù persino due lambrettine, un cannoncino, in sostanza un sacco di roba anche da mangiare, però molti paracaduti finirono anche di là dal fiume che li hanno presi i tedeschi. Poi i tedeschi tentarono anche di venirne a prenderne di qua. E lì proprio morì un partigiano poverino che era di Caprile, Nello Vergai si chiamava, un marinaio che ha preso una raffica e si è nascosto. Si è nascosto ferito, ma si è nascosto così bene che non l'abbiamo trovato. Non l'abbiamo trovato e l'hanno trovato i boscaioli dopo due o tre mesi. Capisci? Si vede che si è dissanguato, si era coperto di foglie. È stata una gran tragedia. Grazie. Grazie.